Bollette dell'energia alle stelle e rincari frenano la ripresa. Si rischia così il punto di non ritorno e il grido d'allarme lanciato da Confindustria Chieti Pescara. Alcune aziende hanno deciso di prolungare il periodo di chiusura natalizia perché in questo momento non è conveniente produrre l'incidenza della componente energia sul conto economico, infatti passata dal 10-15% a oltre il 50%. Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Chieti Pescara. Imprese in difficoltà, imprese che rischiano la chiusura, peggio ancora il fallimento? Sì, assolutamente sì. Mangiare e rodere una marginalità annuale in un solo mese significa che noi rischiamo la chiusura di impianti produttivi importanti. Cosa chiedete nello specifico alle istituzioni? Occorre innanzitutto immediatamente procedere a livello di governo, a livello regionale con delle misure immediate che vanno a calmierare per le imprese il costo dell'energia. Noi siamo passati sul gas in America, negli Stati Uniti abbiamo un costo di 11 dollari a megavattore, nel nostro paese ne paga 87 dollari a megavattore. Non ce lo possiamo assolutamente permettere. Siamo passati da un costo di produzione di energia elettrica di 8 miliardi nel 2019, 20 miliardi nel 2021. La previsione del 2022 di ieri è di 37 miliardi. È insopportabile per il sistema delle imprese. Diciamo così, in sintesi, servono interventi strutturali soprattutto? Assolutamente sì, che vadano da adesso a medio termine. Quindi ai prossimi 3-5 anni la sezione energia di Confindustria Chieti Pescara nell'ottobre 2021 ha rilasciato all'assessorato regionale dell'energia un documento programmatico sulle misure che già adesso si possono prendere, avviando appunto, recuperando il PORFESR 2014-2020 che già aveva stanziamenti per impianti di energie rinnovabili. Su quello noi chiediamo un intervento strutturale e maggiore. In Abruzzo abbiamo avuto su quel bando più di 300 domande di aziende. Chiediamo per esempio che quelle che non sono state finanziate, che sono in gradatoria, vadano già a scorrimento in modo da facilitare nuovi interventi meno impattanti sull'ambiente ma che siano anche meno costose nella produzione di energia.